Sì, siamo qui in via Valle San Mauro, civico 40, ma lo stesso problema ce l'abbiamo al 42 e al 44. Queste sono case popolari, ater, sprovviste di ascensore. Qui abbiamo una disabile, ci sono tanti disabili. La signora Carmina ha una grave insufficienza respiratoria, scende e poi non può più risalire a casa, quindi è completamente compromesso il suo stile di vita. Ha fatto un appello, farà un appello al Presidente di Regione affinché venga qui, la chiami e risolva questo problema. Serve poco, serve uno stanziamento di 90.000 euro per tre palazzi, 30.000 euro ad ascensore, 90.000 euro si trovano in men che un minuto in Regione Abruzzo per far installare gli ascensori in questa zona. Ecco, il Presidente di Regione deve accogliere questo appello, accorato. Queste sono le priorità. In Regione Abruzzo abbiamo trovato 500.000 euro, la maggioranza, il centro-destra, in un minuto per finanziare un evento culturale, ludico, della RAI, dei cartoni animati e quant'altro. Perché non si trova 90.000 euro per mettere tre ascensori in questi palazzi dove ci sono disabili? Per favore, ho fatto, due anni fa ho rifatto la domanda per l'ascensore. Prima riuscivo un po' a uscire, andare a fare le visite, adesso non ne esco più. Per favore, pensateci, loro ho rifatto la domanda. Ma avete visto come sto? Venitevi a vedere, così vi rendete conto come sto. Grazie. Grazie.